Perchè? Perchè? Perchè mi faccio del male? Perchè il mercato dei libri si fa così male? Nuova recensione trash Oggi vi parlerò di un libro Veramente orrendo secondo me Sempre mia opinione Perché ricordiamo che le recensioni trash Sono banalmente delle spiegazioni Dell'analisi di libri che non mi sono piaciuti Molto spesso me li scelgo apposta Per il mio ardore nei confronti del trash Naturalmente non sono assolutamente Un insulto gratuito verso l'autore Autrice, fan del libro Casa editrice Sono una recensione Ma a volte davanti a certe robe Il disagio si fa sentire Come in questo caso Quindi chiudendo la intro come al solito Gettiamoci a capofitto Di quella che è stata una lettura Estremamente sfidante Estremamente Orrenda Credo che a tratti Sia effettivamente La versione italiana di trash Ovvero spazzatura Ma comunque Sempre mia opinione Mi verrà un po' da essere cattivo Verso questo libro Perché veramente per me è stato Terribile leggerlo Iniziamo subito col dire Che questo libro Nasce da Wattpad Che come sempre Non generalizzo Dicendo che su Wattpad Ci sia solo Ciarpame Naturalmente Ma dico che nel 99% Dei casi Dei libri di Wattpad Che poi vengono effettivamente Pubblicati dalle case editrici Sì Nel senso che molto spesso I racconti di qualità di Wattpad Non vengono calcolati In favore di altre letture Che mi rifiuto di chiamare romanzi Che vengono scelti Banalmente per i numeri E view che fanno Io lo capisco Da un punto di vista commerciale Non fraintendetemi Dall'altro lato Però Il what the fuck Si insinua a me Il nuovo after Perché è questa la scia Che vuole seguire La promozione di questo libro E la scelta Del perché questo libro Si è stato pubblicato È Red Di Isabel Ronin Che su Wattpad Ha fatto quasi 200.000 letture E io mi chiedo perché Non capisco Il successo di questo libro Perché fondamentalmente Si tratta Di una copia carbone Noiosa E brutta Di un Cliché dietro l'altro Che abbiamo visto In una miriade di libri Ma perché Alla gente Piace leggere La stessa roba Brutta per giunta Vabbè Fatto sta Che ovviamente Abbonda il trash Tanto che non so Se questa recensione Sarà singola O ha più puntate Perché ho preso Una barca di appunti Il trash Si è insinuato Sin dalla prefazione La prefazione Ha un'unica frase Ai miei lettori Su Wattpad Pancake E io quando ho scritto Questa frase Ho detto Ma che cavolo Poi salta fuori Dal romanzo Che Pancake In realtà È un modo Di dire carino Che ovviamente Avvicinerà I nostri cosini Della situazione Ma la motivazione È veramente Trash E insulsa Cioè Sostanzialmente Chi sono I cosini Della situazione Poi vediamo Come si incontrano Come va avanti La loro storia d'amore E sti cavoli La nostra cosina È Veronica Detta Red E il nostro cosino È ovviamente Sparate il primo nome Clicce brutto Da questo genere Di libri Scommetto che Appena dirò Pensateci Il 90% di voi Avrà capito Come si chiama Questo tizio Caleb E Ha gli occhi verdi E le fossette Naturalmente Queste sono I nostri cosini Della situazione Loro hanno Quest'abitudine In cui quando le cose Vanno storte Si preparano I pancake E suona come Una dichiarazione D'amore Una dichiarazione Quasi erotica Pancake Pancake Trash Ma perché Allora Naturalmente Come ogni libro Trash Che si rispetti Ogni capitolo Ogni capitolo Diciamo Non proprio Ogni Non c'è Ovviamente Una struttura Non c'è Ovviamente Una cura Nella costruzione Di questo libro C'è da dire Che però Quasi Sempre C'è un cambio Di prospettiva Da un capitolo All'altro Perché di solito Questo tipo di autori Fa fatica A delineare Una storia Scegliendo Un narratore Specifico Ci sta La pluralità Di voci Ma quando c'è Il capitolo Con il nome Del personaggio E poi il nome Dell'altro personaggio A me fondamentalmente Non piace Non lo trovo Una scappatoia Di Trash Così come Ogni tanto Si insinuano I punti di vista Di personaggi Secondari Semplicemente Con lo scopo Di dare Informazioni In più Al lettore Che altrimenti Non verremo a sapere Meraviglioso Meraviglioso Allora Il primo capitolo Spetta Al punto di vista Di Caleb Caleb è un bad boy Dicevamo Ovviamente Ha tutti i sintomi Dello stalker Di turno Però A differenza Degli altri bad boy Nonostante Sia come al solito Uno scimmione Uno scimpanze Eccetera Eccetera È Un gioppino È un gioppino È un Dozerbino È un uomo Senza spina dorsale Chiunque Cioè si trova Nelle situazioni A caso Non sa come Gestire la sua vita È un gioppino Si lascia trascinare Dal trash Un po' L'ho apprezzata Questa novità Ma è proprio Una persona Vuota Secondo me Da come lo vedo Il romanzo intero È vuoto Nel senso che Mentre ci sono Romanzi orrendi Anche più brutti Di questo Come Love In quei romanzi Orrendi Comunque C'erano delle cose Che succedevano Qui No Cioè È una lenta Agonia Del nulla Allora Il primo capitolo Vede appunto Protagonista Caleb Che si trova In discoteca È in discoteca Ovviamente Accerchiato Da numerose Gruppi Perché ovviamente Lui bello E dannato Come il sole Non si attestiamo Zerbino E lui subito Feci vagare Lo sguardo Su quella Massa di persone Mi ricordavano Pinguini Accalcati Per proteggersi Dal freddo Ma strafatti Di crack Io ho letto Recensioni Di questo libro Che dicevano Che la prosa Fosse bella Vedete voi Vedete voi Si può sapere Che cos'hai Mi gridò All'orecchio Cameron È tornato Cameron Ma non solo lui E lo scopriremo Presto Chi torna I suoi occhi Allora Praticamente I suoi occhi Azzurro Ghiaccio Brillavano Nella penombra Mi spiegate Allora A parte che Cameron Ha gli occhi Azzurro ghiaccio Ma comunque Mi spiegate Come fa Cosino A vedere Gli occhi Dell'altro Cosino In una discoteca Nella penombra Il fatto che siano azzurri Cos'è un X-Man Si illuminano al buio Come le Ellie Kelly Le Bull Boys Ma cos'è sta roba Cos'è sto trash Comunque Caleb Allora Mentre Caleb È comunque un bad boy Senza spin up dorsale Ma ha un minimo Di sentimento Nonostante le Le ragazze che si porti A letto No questa vita Non fa per me Poi falsissimo Ovviamente se le fa tutte Cameron È invece proprio Uno scimmione Come lo conosciamo È proprio trash Una persona trash Nel midollo Secondo Cameron Caleb Sta male Come persona Perché sta rifiutando Le ragazze Che ci provano con lui E invece Caleb dice Dovresti fartele tutte Amico Il sesso occasionale Allora però Secondo Caleb Il sesso occasionale È una cosa patetica Lui cerca qualcos'altro Che cosa cerca Caleb? Una sfida Il brivido della caccia E quasi come in risposta A questo suo desiderio Caleb vede Questa ragazza Questa ragazza Vestita di rosso Che naturalmente È la nostra cosina Che si agita Al centro della pista Da ballo Si muoveva Come se stesse Facendo sesso Sorprendente Sorpresa Portami via Il vestito Che indossa È rosso E peccaminoso Maledizione Ma cosa maledizione? Ma calmati Cosa è successo? Forse sbavai un po' Quando lei Si chinò Ancheggiando Allora Attenzione Alla scena Trash Che arriva adesso Noi abbiamo capito Subito Che la cosina Che volteggia nell'aria Come se stesse Tegolinando È naturalmente La cosina Della situation Ma in questo momento Arriva Claire Claire È una delle gruppi Di Caleb I suoi seni Mi fissavano Una notte In cui ero ubriaco Quelle due delizie Dovevano essermi Sembrate Una ragione Sufficiente Per farmela Che classe Lei ci prova di brutto Lui non la vuole Invece Ma Attenzione al trash La protagonista Cioè cosina Vedendo questa scena Che mi chiedo Come faccia Lei Ecco Vi spiego il personaggio Di lei Lei È tonta Come la fa Cioè Tonta Tonta Però Lei capisce tutto Senza avere nessuna prova Del davanti Di quello che ha davanti Apprezzo molto però La scelta Quasi paritaria Del portare La ragazza A salvare il tipo L'ho trovata Una cosa carina Però è trash In questo contesto Cioè praticamente Lei sta vedendo Lui Che è abbordato Da una Lui la rifiuta E allora deve arrivare L'altra Guarda caso La cosina Che ho appena visto Per dire tipo Stasera lui è con me Però dopo se ne va Bicceggiando Dicendo Eh l'ho fatto Per salvarti Mi devi un favore Ma che è Ma che motivo Per farli incontrare Ma come ti è venuto In mente Mio dio Già sapevo Che avevo di fronte Una caterva Di trash Da gestire Fa niente Lui le dice Sentite che classe Che aplomb Ma dove sei stata È tutta la vita Che ti cerco Lei Ti ho salvato Adesso offrimi Da bere E dopo averle Offerto da bere Lei lo frenzona Con un Miau Cosa What the fuck Ovviamente Però Anche lei Viene adescata Viene adescata Da un pervertito E ovviamente Torniamo nel cliché Grave Calebbino La salva Lei Ubriaca Marcia Gli racconta La sua storia E vomitando Mentre vomita Nella sua macchina Ora A parte il disagio Di lui Per poco Non scoppeai A piangere La mia macchina Nuova Il rumore Dei conati Era piuttosto Sgradevole Ma non appena Fu investito Dalla puzza Quasi rigettai Anch'io Immaginate che gioia Nel sentire Parlare Nel sentire Descrivere Queste cose Allora Lui la porta Anche a casa sua La porta a casa sua Ma Attenzione Non vi ho ancora Detto la storia di lei La storia di lei Sostanzialmente Per una vicissitudine Tra le città Che non ce ne frega nulla Perché il succo Della cosa Che lei deve rimanere Deve essere In questa situazione Lei è Una senza tetto Dov'è l'Oxanax? Ho bisogno dell'Oxanax Per gestire questa cosa Lei è Una senza tetto Ok È stata cacciata Di casa È una ragazza Che si è sudata All'università Non è ricca Quanto Caleb Perché ovviamente È a Caleb Vabbè Ma lei invece È una poveraccia Una povera Sguattera Senza soldi Senza casa Senza niente Però Attenzione Lei nonostante I drammi Nonostante Sia appena Sata cacciata Di casa È andata In discoteca A spendere I suoi ultimi risparmi In alcol Ditemi se è una persona Con un minimo Di sale e zucca Questa Io non ho capito Il senso di questa roba Comunque lui La porta a casa È già cotto Naturalmente Perché le dice Dormi da me stasera E la fissa Tutta la notte Mentre dorme Polizia Polizia Chiamate la polizia Lui la Tra l'altro Lui l'ha messa a letto Attenzione Allo schifo Di questa scena Lei si è vomitata Addosso Siccome lui Pensava No però Se la cambio Magari Ha l'ansia Del fatto Che io l'abbia Spogliata E rivestita No Ho detto Vabbè però È un caso In cui si è vomitata Addosso Nel senso Piuttosto Non lo so Chiami un'infermiera Ma quello che fa lui È agghiacciante Si stende Accanto a lei E la fissa Lei ha indosso I vestiti suoi Incrostati di vomito Cioè tu hai messo Una persona Che si è vomitata Addosso Nel tuo letto E le hai messo Pure sopra Le tue coperte Che schifo Vero giorno Quando ho letto Questa scena Stavo vomitando Anch'io Vabbè Quando lei si sveglia Lei Brillante Come sempre Controlla Che non le siano Stati rubati Gli organi Ma chi non lo fa La mattina No in realtà Lei si sveglia Se scopre In questa casa Lussuosa Dice oddio Sono finita Tra i narcotrafficanti Non è che pensa Alla cosa più banale Che tutti penserebbero Anche nei libri trash Ovvero oddio Chissà cosa ho fatto Stasera Sono andata a letto Con uno No Mi hanno rapito E narcotrafficanti Mi hanno rubato Gli organi È tutto coerente Ovviamente Lei è vergine Però Perché Prima lei pensa Che narcotrafficanti Poi pensa A Alla possibilità Di averla data A qualcuno E dice No non voglio Darla a qualcuno Sono vergine Ovviamente Vabbè Comunque Quel lusso Mi strappò Una smorfia Perché ovviamente La casa è lussuosa Il lusso Lo sfarzo L'agio Il prestigio Lei tra l'altro Quando chiede spiegazioni Lui le spiega Della sera precedente Lei lo riconosce Perché frequentano La stessa università Ma che occasione fortuita In questa discoteca E anche all'università Si incontrano sempre Le stesse persone Io adoro Fatto sta che Lui è considerato Il bad boy Del campus Perché se le è fatte tutte Lui la chiama già Baby E quindi casca male È proprio sfigato lui È proprio sfigato Non ha nulla Di attraente Cioè Sin dal principio Però ha le fossette Attenzione Quindi lei già cotta Subito Lui le offre Nonostante sia un estraneo Uno sconosciuto Nonostante lei si faccia Le pippe Del fatto che Lui sia il puttaniere Del campus Lei gli dice Lui le dice Dato che sei Una senza tetto Poveraccia Puoi vivere con me A gratis Non devi fare nulla Devi solo cucinare Per me Giustamente Lei dice Non sono la tua Prestituta Lui Sentite la classe Pensi davvero Che me ne serva Una L'hai visto Questo corpo Hai visto Questo cervello No che non l'hai visto Non ce l'hai E aggiunge Dovresti essere tu A pagare me E lei si accorge Che lui ha gli occhi verdi E quindi quasi quasi Un pensierino Ce lo fa Che disagio Lui ricco sfondato Ovviamente È patetico Perché Lei gli fa le pip Ovviamente accetta Di dormire da lui Di vivere da lui Però ovviamente Lui fa il classico Ricco sfondato Patetico Che si trova In questo genere Di romanzi Indicando tutto il lusso Davanti a una senza tetto Dice Pensi che mi serva Tutto questo Ma sì Andiamo avanti Un istante più tardi Qua siamo dal punto di vista Di lui Un pezzo di stoffa Cadde sul mio culo nudo Perché lui si è appena Fatto la doccia Evidentemente Ma un pezzo di stoffa Cadde sul mio culo nudo Per fare intendere Che lei gli ha messo Un asciugamano Attorno Che brutta scrittura C'era qualcosa Che non andava in me Sandra con il suo Completino intimo Non mi aveva fatto Eccitare Invece Red Perché lui inizia A chiamarla Red Nonostante si chiama Si chiami Veronica Perché indossava Un vestito rosso Con addosso Una t-shirt in forme Sì Lui è un uomo di classe Sentite ancora L'asciugamano Con cui mi ha coperto il culo Non è abbastanza grande Per nascondere Quello che ho davanti Chi si loda Si imbroda Di solito C'è la regola Del Chi ha una grande macchina Chi compra tante macchine Sono grandi Di solito Perché deve Diciamo Avere Deve Deve compensare Ciò che c'è sotto L'asciugamano Quindi attenzione Chi si loda Si imbroda Lui è pieno di macchine Ovviamente Macchinoni Come se non ci fossero domani E poi fa questo qua Fa queste uscite Con gli amici Con la tipa Con cui dorme Da un secondo Vabbè Cosa diavolo avevo detto Si chiede Almeno si chiede le cose Rispetto agli altri Scimioni Di Young Adult Mi aspettavo Mi aspettavo che corresse via Perché lei rimaneva impalata A fissare l'asciugamano Ovviamente Lei Lei Non è sana Quanto lui Cioè Forse meno sana di lui Perché risponde Potrei portarti Un sacco di cadaveri Eh E lui Sei davvero inquietante E lei Mai quanto te Due psicopatici Io ho letto un libro Su due psicopatici Allora Arriva il punto di vista Di lei Quel ragazzo Aveva il fisico Da modello Era difficile Che non mi facesse Alcun effetto O no Però Lei scopre che Caleb Ha una scatola Di preservativi Che mascalzone Che birichino Dindirindina Cioè Lei scioccata Ovviamente Come se non li avesse mai visti Ma neanche la pubblicità Proprio su Youtube Zero Lui le mostra il sedere Guarda come ce l'ho tonico Ma come fai a non credere Che aveva dei preservativi Uno che fa così Poi 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 Proprio un cretino Non lo so Mi è stato proprio Sulli zebedei Sto tizio Lui tra l'altro Le propone In modo inquietante Di fare un giro in moto Ovviamente Da bad boy Avendo un solo casco Lo offre a lei E lui va senza Perché è curante del pericolo E le dice Tra l'altro Di andare a fare Al fiume A fare un bagno Ma non portano il costume Incredibile Per fare ovviamente La solita scena trash In cui si doveva mettere In reggisione a mutandine Lei no 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 Trash Il trash In coerenza pura Era così vicino Che potevo sentire Il suo aroma virile Quel corpo Era un'opera d'arte Alto Slanciato Abronzato I muscoli delle braccia Si tesero Mentre lui arneggiava Con la fibbia Della cintura E poi Distorsi lo sguardo Beh ovviamente Allora Fanno queste gare Di tuffe Di notte Nel fiume Loro due Altri amici scemi Lei non vuole buttarsi Ovviamente Ma appena Lui la sfida Ovviamente Lei si butta Perché Non ha una volontà Si fa trascinare Nella cretinaggine Avete presente Quando la mamma Vi dice Se i vostri amici Si buttano dal ponte Tu ti butti dal ponte Tale quale Lui le dice Buttati dal ponte Lei si butta Effettivamente dal ponte Meraviglioso Incredibile Che guardassero pure Il mio corpo Ah perché ovviamente Lei si è messa Nuda Si è messa Il registro Mutandina Che guardassero pure Il mio corpo Sapevo di avere Un bel fisico Tanto che per breve tempo Avevo fatto la modella Finché il fotografo Non mi aveva chiesto Di posare nuda Certo Il trash Tra l'altro Due capitoli dopo Dirà Eh no Sono grassa Eh no Ma tu non eri cosciente Di fare la modella Sei scappata dal primo fotografo Che ti ha chiesto Spogliati Ma Il disagio Ovviamente per dire Che lei è bellissima Lui è bellissimo Lei si tuffa in lingerie Quando raggiunsi la superficie Ispirai la dolce aria Benedetta Benedetta dal trash Guarda Caleb mi eccitava Era come un'escursione Nella giungla Un territorio Sconosciuto Misterioso Avventuroso Pieno di pericolo Lui si butta Tipo lui è nell'acqua Cerca di arrivare a lei E a lei Si strappano le mutande Appena lui lo scopre Il suo sorriso ricordava Quello dello stregatto Di Alice nel paese De meraviglie Cavolo Sexy Devo dire Lui le presta i boxer Per uscire dall'acqua E voi penserete È rimasto col giringillo Al vento No Lui mette Il boxer I boxer Sopra Ad altri boxer Perché dice che Ha bisogno Della mutanda Contenitiva Ma il trash Ma il disagio Ma è normale? Ovviamente poi Lui le dà anche La sua camicia Perché deve rimanere A petto nudo E lei invece Non ha vestiti Non ha senza tetto Lui le abbottonò La camicia E poi Mi trascinò Verso il barbecue A me ha fatto ridere Questa 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 frase Mi trascinò Verso il barbecue Sembra che l'abbia Messo la salsina L'abbia condita E poi pronta Per essere mangiata Arriva una tizia Che mai più apparirà Che si chiama Daidara Da cosa? Daidara? Brana Brana Daidara Daidara Sembra un'imprecazione Ho scoperto anche Che è un personaggio Di Naruto Daidara Ma in questo caso Una tizia In un universo Di Caleb e Veronica Io adoro Arriva un ragazzo Con la chitarra Che la chiama Viso d'angelo Attenzione Perché tornerà Tornerà Alla fine del libro Questo tizio Che sembra fermo All'82 Con le tecniche D'approccio Adoro Veronica O intanto pensa Di Caleb Non voglio Che lui mi fissi Con quegli occhi verdi Lui tra l'altro Indossa Una t-shirt Con scritto Sono nato pronto E crede di essere sexy Questo tizio Ma veramente Sono nato pronto Ma dove vivi? Una frase Che gli calza pennello Dice lei Tra l'altro Avete presente Quei tizi Che hanno la maglietta Fermo alla terza media Ci sta C'è gente Con uno scritto Gugliardico Che la mette Ma questo qua La mette seriamente I'm born ready Ma che cosa? Ma vai al mercato Di cinisello Non lo so Vabbè fa niente Lasciamo per aiuto Mi osservò Ad occhi socchiusi Sembrava affamato E poi a caso Non potevo lasciare Che un ragazzo Così bello Entrasse nella mia vita Eviterò Caleb Ma che cosa? Quali sono i tuoi problemi? Lei è arrapata Persa da lui E però Dice Non posso permettere Che un ragazzo Così bello Entri nella mia vita Perché era così bello? Perché sei così scema? Ovviamente questa cosa Verrà spiegata dopo Nel senso che Cioè spiegata Ovviamente Perché lui Si fa un sacco di tipe? Perché ha una famiglia Disastrata? Perché lei Non vuole vedere gli uomini? Perché lei Ha la famiglia disastrata? Non vi racconto neanche Le storie Che ci sono dietro Sono cliché puro E disagio trash Il capitolo di Caleb successivo Si apre con Le eiaculazioni notturne Appartenevano al passato Per quanto mi riguardava O almeno così pensavo Cosa mi stava facendo Quella ragazza? Caleb ascolta i Radiohead Tra l'altro Definendo Tommy Ork Perché ovviamente Lui non sa chi siano i Radiohead Evidentemente conosce solo Creep Uno strano individuo Tommy Ork Povero Tommy Ork Fa che tu non sappia Tutto questo Nonostante Veronica Dice Pensa Quando Quando ha tempo Pensa Nonostante l'imbarazzo Non potei evitare Di ammirare la sua bocca Era rosa Irresistibile E probabilmente fredda Per via del succo Perché stava bevendo del succo Caleb tirò fuori la lingua E si leccò le labbra Cioè Ma quale Chi beve il succo E fa così Ma veramente Era troppo Sentì le farfalle nello stomaco E gli unicorni E i troll E i faggiani E gli umpa loompa E poi dopo aver bevuto il succo Lui è proprio sfigato Senti È proprio uno sfigato Cioè lui beve il succo Poi si gira Verso cosina E le dice Ciao Red Ti piace quello che vedi Oddio E anche io Avrei detto Oddio Oddio dal trash Ha intenzione di fingere Che io non ti ecciti E poi aggiunge Dovrei lasciarti in pace Ma non riesco Sono avido Avido Ma tu sei trash Ma cioè Ma cosa Ma poi Amore criminale Dovrei lasciarti in pace Ma non riesco Ma poi questi vivono Sotto il stesso tetto E lei è convinta Di poterlo evitare Ma che cosa fai L'opportunista L'arrampicatrice sociale Ma poi lei fa Tutta la santarellina La piccola fiammiferaia Ma intanto Sta a casa di questo Ma che è Ovviamente si baciano E la sua bocca Divenne esigente E anche La ricerca di trama Inizia a entrare esigente Non sono mai stata baciata così Dovevo sentire come Dovevo sentirmi Come se mi avesse Marchiata Marchiata Ma medioevo Medioevo Dove sei Lei lo evita di nuovo Ovviamente Perché si sono baciati Oddio non si fa Lui la segue Alle lezioni Nonostante Non facciano Le stessi corsi Perché lui deve vedere Che cosa fa lei Ottimo Tutto normale Preparatemi A una scena Che mi ha traumatizzato Secondo La realtà di Wattpad E secondo L'autrice Credo Non credo Che abbia fatto Spero che non abbia mai fatto Effettivamente L'università Perché in questo universo Malsano L'università è come La scuola media Evidentemente Perché Caleb manda Un bigliettino Bigliettini Vabbè Un bigliettino A Cosina E con scritto Tipo Mi è piaciuto Limonarti Ieri sera Il professore Intercetta Il biglietto E lo legge Davanti a tutti Per umiliarla E l'università Ma all'università Se gira un biglietto Il professore Se ne sbatte Allegramente Cioè Perché È compito tuo Essere Attento Alle lezioni Ma Alle medie Il professore Ti blocca Se passi un bigliettino Ma che è sto trash Ma che Ma che infantilismo Poi Lui che le manda Il bigliettino Ti è piaciuto Il limone Di ieri Fa il gradasso Chi si loda Si imbroda Baci Da schifo Diglielo Cosina Diglielo No Lei è di che pensami Amarchiata Vabbè Comunque Lei è omigliata Arriva l'amica trash L'amica trash È cara Cara Ma non come cara Delle vigne Cara con la k Allora Perché Brana Brana No La vede giù di corda Omigliata Offesa E le dice Ma cos'hai Sei giù di corda Come se lo avessi succhiato Al ragazzo sbagliato Come Come Tranquillizzare Un'amica depressa No L'essenza Dell'amicizia Ovviamente La psicologia Del personaggio Costruita A pennello No Caleb Al padre Fedifrago Quindi Rimorchia Un sacco Proprio Come il cane Di Pavlov Campanella E lui Arriva Lei Dice a lui Promettimi Che non mi Bacerai mai più No Red Che ansia Ho bisogno Di toccarti Di respirare Il tuo profumo Di vederti Guardarmi E sorridermi Cioè chiamatela Neuro E invece no Anziché chiamare SOS Stalkin Si baciano Di nuovo Niente più baci rubati Era finito il tempo Degli scherzi Delle motine Mi stava per manchiare a fuoco Ma basta Infatti lui le dice Sei mia Che ansia Però Lei dopo Lei dopo l'ennesimo bacio Si frenzona Perché in questo libro Del cacchio È tutto un Baciarsi Non sono pronta Si lasciano Baciarsi Non sono pronta Si lasciano Ma Ma il disagio Lei continua ad abitare Da lui Continua ad abitare Da questo qua Che le ha detto Più volte Sei mia Ti seguo Ti mollo Non ti mollo più Ti dimono Ma oh Ma veramente Lei lo frenzona Quelli di nuovo Ma Gli amici Non si desiderano Come io desidero te Le dice lui Perché ovviamente Il pensiero di lei Non è contemplato D'accordo Però non devi baciare Nessun altro Le impone Ma vi sembra normale? Fortunatamente Lei si ribella Si ribella E dice Ma oh Tutto a posto Perché lei ha un lampo Di genialità E lui grida Tu stai con me Ma chi ti credi Di essere Ma sei una persona Imbarazzante Caro Caleb A cominciare dal nome Perché è uguale A tutti gli altri Porconi Degli young adult L'amica di Cosina La Trasha Dice Preparatevi Se siete bionde Se ci sono ragazze Bionde all'ascolto Mi dispiace Ma ovviamente Un cliché tira l'altro E quindi Il fantastico stereotipo Delle bionde Lo sai che ero bionda In una vita precedente Vero? È la mia scusa Per non avere Tanto cervello Il tuo invece È roba da NASA Dice l'amica Cosina Cosina tanto cervello Cioè se la NASA Avesse il cervello Di Cosina Cioè se gli scienziati Della NASA Avessero Il cervello di Cosina Il mondo Esploderebbe Cioè l'umanità L'umanità non progredirebbe Vabbè Cara è proprio La stupidità Fatta persona Perché arriva Un buzzurro Con i tatuaggi Terribali Che sembra uscito Da uomini e donne E lei pensa subito Credo di aver appena E detto questo Io per oggi Blocco qui Vi aspetto domani Con la seconda parte Perché sono devastato E manca ancora Decisamente tanto Direi che siamo a metà Ce la possiamo fare Ce la possiamo fare Dai Dai Stay strong United In the trash of moods A domani A solita ora Scopriamo come va A finire sto scempio Che fatica Che disagio